Buongiorno a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Un videocorso decisamente natalizio, breve, su una risorsa carinissima, colorata, famosa a livello mondiale e funzionante solo durante le feste. Parlo di Healthy Yourself, sito di riferimento healthyyourself.com, ma è anche possibile scaricare la comoda app, sia su sistema operativo iOS, dunque Apple, che Android. Cosa posso fare? Posso creare dei simpatici e musicali video in cui il mio volto divenga quello di un elfo, ma anche quello degli alunni. Quindi è una risorsa veramente carina e facile. Prima che si vada a toccare, non so se nei commenti poi a questo video, in altro contesto, il tema dei volti, quale dato sensibile, aggiungo anche che in questo caso il tutto è molto contingentato, ma che posso caricare anche l'avatar dei miei alunni e loro stessi possono caricare un loro avatar. Cercate qui sul mio canale Trainer Andrea il videocorso, inserite come parola chiave se volete, cartotto avatar e trovate una risorsa facilissima commentata. Bando alle ciance, partiamo. Clicco sul tasto verde Upload. Poi nel mio caso, ora io clicco desktop, vado a prendere una foto di esempio dal mio desktop in cui c'è il mio simpatico facciore. Oddio, eccomi qua. Allora, guardate com'è facile. Tasto sinistro del mouse premuto per inquadrare grosso modo il volto, insomma simmetria delle orecchie e così via. Questo interruttore che io sposto con il tasto sinistro premuto del mouse è lo zoom e questa linea con le freccine tasto sinistro premuto io la porto circa a metà della bocca perché indica, diciamo, la perfetta simmetria con il parlato dell'elfo, del personaggio. Se abbiamo una foto un po' così così, non perfettamente dritta, è vero che possiamo anche ruotare. A questo punto, guardate, il più è fatto. Io clicco su next e cosa faccio? Aggiungo un altro elfo che potrebbe essere sempre la mia faccia o in realtà potrebbe essere la faccia di altri colleghi o la faccia di alcuni alunni. Quindi sino a cinque personaggi danzanti nello stesso video è possibile, ecco, montare questo augurio. Head greeting, pulsante verde ci permette di aggiungere un augurio scritto, un bel clic, non su enter your message ma appena sopra quando vedete comparire il cursore. Clic, auguri a tutti dall'elfo Andrea. Eccoci qua, 45 caratteri disponibili, a questo punto clicchiamo su next, un clic su let's dance e la magia è pressoché compiuta. Allora, vi faccio subito vedere, veramente divertente, nel frattempo alziamo ancora un pochettino il nostro volume. Sulla destra ci sono i diversi temi, l'augurio olé in tema un pochino più spagnolo, l'augurio piratesco, Feliz Navidad, l'augurio più classico che poi è classic, o un augurio marinaro come quello che state vedendo ora. Guardate, clic sul play. Insomma, è carino, fa sorridere, abbiamo bisogno di qualche sorriso in questo momento. Vi anticipo che la funzione dei download ha un costo pur minimo, quindi la condivisione, se lo facciamo da sito web, avviene tramite il pulsante verde share. che genera, dopo qualche secondo di attesa, un link. Il link in questione lo generiamo cliccando sul pulsante verde catena, mentre il pulsante giallo email manderebbe in automatico una email a un destinatario da specificare. Ma io vi mostro che cliccando sulla catena e poi ancora con un clic su copy, sono pronto a condividere questo link, dunque, ovunque io desideri, ad esempio nello stream di Google Classroom, nella bacheca di WeSchool e in molti altri ambienti di restituzione o contesti adeguatamente normati per l'utilizzo scolastico. È ancora presto per formularvi gli auguri, non escludo ulteriori sorprese, continuate a seguirmi qui sul mio canale, però ecco sì, ve li anticipo perché con questo sorriso formulo soprattutto ai più piccoli l'augurio affinché questo Natale particolare si possa comunque tramutare in molti sorrisi. Ancora un saluto da Andrea Cartotto e appuntamento al prossimo videocorso. Ciao!